Il trattamento con ossigeno-zonoterapia come terapia innovativa nel trattamento del dolore nei pazienti oncologici senza utilizzo di farmaci è stato somministrato oggi per l'intera mattinata al Responsible Research Hospital di Campobasso ad un gruppo di pazienti malati di tumore. Una iniziativa che rientra nella settimana nazionale per la prevenzione oncologica promossa dalla Lilt, la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Il dolore è anche la riabilitazione e il recupero della qualità di vita dopo la malattia o durante i trattamenti che comunque hanno un impatto importante sulla salute del paziente. La prevenzione terziaria è soltanto una parte di tutta la prevenzione. La settimana nazionale è dedicata alla corretta alimentazione, a promuovere la dieta mediterranea di cui noi siamo di importanti custodi e attraverso la dieta mediterranea l'olio extravergine di oliva. Una delle terapie, dei mezzi, delle armi che ci permettono di curare questo tipo di disabilità è sicuramente l'ossigenozonoterapia. Grazie alle sue proprietà antinfiammatorie, immunomodulanti e soprattutto migliora gli scambi di ossigeno. Quindi questi pazienti solitamente oltre ad avere dolore hanno anche particolare stanchezza ed è una qualità di vita non sicuramente buona e noi cerchiamo grazie al nostro progetto riabilitativo di migliorare la loro qualità di vita. Quanto dura una seduta? Una seduta dura tre quarti d'ora più o meno perché consiste in una frebo e quindi una grande auto-emo infusione, viene prelevato del sangue più o meno 150 cc-200 cc, viene caricato di questa miscela di ossigenozonoterapia e viene nuovamente restituito al paziente. Quindi si tratta di una grande auto-emo infusione. Oltre a questo il paziente che per esempio potrebbe avere anche degli effetti dovuti alla chemia o alla radio tipo ulcere che possono colpire anche parti cutanee vengono anche somministrate all'ozono attraverso dei sacchetti, quindi viene fatto un sacchetto carico di ozono grazie alle sue proprietà antibatteriche, quindi battericida, permette anche di migliorare e accelerare la guarigione delle ferite.